La mia è una relazione di taglio molto diverso da quella che abbiamo appena ascoltato, anche se in qualche modo continua un dialogo che anche Roberto Esposito ha avuto modo di richiamare con lui, con le sue idee, con la sua ricostruzione che trovo estremamente acuta e interessante del pensiero italiano. Però appunto io mi muovo facendo lo storico su un altro piano. La mia relazione sarà divisa in due parti sostanzialmente. Una prima in cui cercherò di dare uno sguardo sui caratteri generali della transizione epocale che mi pare per ammissione concorde stiamo attraversando e una seconda parte in cui invece concentrerò la mia attenzione sull'Italia a partire dal modo, non soltanto diciamo così, un espediente espositivo, a partire dal modo in cui si stanno svolgendo le celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'unità del nostro Paese. Allora per venire alla prima, per iniziare alla prima parte. Viviamo per concorde a missione, dicevo, un passaggio d'epoca, un momento di grande transizione. Ma mi sembra che non ci sia un altrettanto accordo invece sulla natura di questa transizione, cioè da dove a dove. E in particolare sul punto capitale, cioè che cosa realmente è finito o sta finendo, forse è finito più che sta finendo. Beh, io credo, la mia ipotesi di partenza, è che è venuto a compimento simbolicamente nel 1989, cioè a due secoli esatti dal suo inizio, è venuto a compimento, dicevo, nell'emisfero settentrionale del pianeta, quel lungo arco cronologico di eventi iniziati per l'appunto con la rivoluzione francese due secoli precedenti, caratterizzato da una altissima e pervadente intensità del politico, legato a due questioni fondamentali, il mutamento sociale e la definizione della statualità. Non è un caso che questo lungo arco cronologico di due secoli ha come suo massimo punto simbolico, direi, il concetto, l'idea e la pratica di rivoluzione. La rivoluzione che per l'appunto congiunge insieme il mutamento sociale e la ridefinizione della statualità. La fine nel 1989 del blocco sovietico, quindi simbolicamente del comunismo, ha voluto dire, io credo, porre termine a tutto ciò. La certificazione definitiva della ormai constatata implausibilità di qualunque rivoluzione in Occidente e di tutto quello che ciò comporta. La coincidenza cronologica abbastanza significativa tra la globalizzazione e appunto la fine del comunismo ha voluto dire precisamente questo, richiamare l'attenzione su questo. A meno che non si profilino nel nostro futuro delle inimmaginabili catastrofe economiche, credo che appunto da Vladivostok a San Francisco non ci saranno mai più rivoluzioni, non ci saranno mai più, cioè quel tipo di mutamenti sociali, di ridefinizioni della statualità nella cui prospettiva ha vissuto e si è agitato tutto l'universo del pensiero politico, del movimento sociale europeo e occidentale in generale. Beh, io credo che appunto il compimento di questo lungo arco cronologico ha voluto dire, stia dicendo, stia producendo una straordinaria perdita di spessore e per certi versi direi anche proprio la vera e propria dissoluzione dell'involucro storico politico delle collettività europee. Le collettività europee stanno perdendo progressivamente, dove più e dove meno, in Italia il processo mi pare particolarmente pronunciato, probabilmente per la debolezza storica originaria in qualche modo dell'uno e dell'altro, appunto stanno perdendo questo che ho chiamato l'involucro storico politico. Quest'involucro che si presenta come dissoluzione soprattutto, a me sembra, più o meno all'unisono dello Stato e dei partiti. Dello Stato c'è della strumentazione tecnica con cui la politica si muove, disposizione della politica, l'insieme delle strumentazioni tecniche operative con cui la politica si muove al tempo stesso, lo Stato come destinatario massimo dell'obbligazione politica e insieme appunto i partiti, dicevo, cioè gli strumenti della progettualità, delle progettualità delle azioni sociali collettive. Entrambi questi due aspetti appunto sono colpiti in un certo senso a morte. In questa dissoluzione, chiamato appunto dell'involucro storico politico delle collettività europee, cosa si muove però? Arriva qualcosa a riempire, o a tentare di riempire, io credo, questo vuoto? Sono sostanzialmente, mi sembra, due progetti, con due segni ideologici diversi, uno di destra e uno di sinistra, anche se, come spesso è accaduto del resto, con singolari punti di contatto e di sovrapposizione, l'uno con l'altro. Il primo disegno è appunto un disegno con un ovvio marcato carattere di destra, che potremmo chiamare un disegno di tipo liberista, liberal-liberista, fondato sulla mano invisibile dell'economia, sull'idea che appunto funzioni la mano invisibile dell'economia, sulla idea dell'auto-organizzazione della società civile, fondato sull'idea che funzioni l'auto-organizzazione della società civile, e sulla egemonia di quella che chiamerei l'élite naturali, l'élite dell'intelligenza, del merito, sulle supposte, anche qui diciamo così, élite del merito dell'intelligenza. E, come avrete senz'altro capito, il progetto che sta al cuore della globalizzazione, che è naturalmente un progetto economico, ma insieme appunto naturalmente e anche molte altre cose. È un progetto che scommette sulla fine della politica e dello Stato, o almeno sul radicale ridimensionamento della politica e dello Stato. Ma accanto a questo progetto, con una identica scommessa, io vedo, sulla fine, sul ridimensionamento della politica e dello Stato, accanto a questo progetto di destra, con un identico fine, in un certo senso, se ne profila, a mio giudizio, chiaramente un altro, con invece un segno di sinistra. Forse bisognerebbe dire di nuova sinistra, insomma, adottando questi lemmi molto italiani. Qual è questo disegno, appunto, antipolitico, antistatuale di sinistra? E il disegno che io chiamerei pan giuridicista e costituzionale, trattino, pan giuridicista e costituzionale, fondato, cioè, sull'idea che si possa sostituire alla discrezionalità inevitabile della decisione politica e del comando politico e insieme si possa sostituire a quel quid di opacità che inevitabilmente è propria dell'azione statale e dell'azione politica, sostituire, appunto, a queste due cose la supposta, immacolata trasparenza dei codici e delle decisioni delle corti, l'applicazione universale dei diritti umani. Io vedo all'opera due centrali intellettuali, per così dire, assumendo un linguaggio un po' inquisitorio, due centrali intellettuali propulsive di questi due disegni, entrambe naturalmente con un forte carattere trasnazionale, posto che, appunto, l'obiettivo polemico di entrambe questi due disegni sono la statualità, che inevitabilmente è una statualità nazionale, e la politica legata alla statualità nazionale. Allora, queste due centrali, diciamo così, sono, da un lato, io vedo, credo di vedere, propongo a voi di discutere su questo punto, da un lato, l'Europa trattino l'europeismo, che naturalmente possono essere molte cose diverse, direi l'europeismo nella costruzione, interpretazione che ne dà, appunto, il ceto burocratico europeo stesso, europeista, quello, diciamo così, che è a Bruxelles, e la sua appendice, che sono le classi dirigenti europee, che in mancanza di qualunque discorso politico proprio, originale, non fanno altro, non sanno fare altro che, appunto, appena tolgono lo sguardo dal cortile di casa, che ripetere più o meno pappagallescamente il frasario, le formule del suddetto europeismo. L'Europa è uno straordinario esempio di incrocio di queste due prospettive. Nell'europeismo si incrocia la prospettiva della globalizzazione e la prospettiva del pangiuridicismo, l'Europa come spazio dei diritti. Questa è la definizione che spesso va per la maggiore. Che cos'è l'Europa? È un grande spazio dei diritti. Credo che sia la prima volta nella storia umana, nella storia del pensiero umano, che viene dato di un soggetto politico una definizione del genere, che però colpisce con grande esattezza, diciamo così, un certo modo di interpretare le cose. Allora appunto, dicevo, l'Europa europeismo con questa valenza insieme di globalizzazione e di pangiuridicismo e insieme un altro grande luogo sociale di elaborazione di queste due prospettive antistatali e antipolitiche, soprattutto per quello che riguarda, anzi adesso specialmente per quello che riguarda l'elaborazione di quello che ho chiamato il pangiuridicismo costituzionale. E quello che giustamente, credo, è stato chiamato il ceto medio riflessivo. Un ceto medio riflessivo dipendente sempre di più, ideologicamente, a me sembra, da quello che si pensa, si scrive, soprattutto nel mondo anglosassone, nei centri universitari del mondo anglosassone, qui appunto Remo Bodei sicuramente poi avrà da dire qualche cosa. L'Europa, dicevo, è il terreno d'incontro, l'Europa come costruzione ideologica, ma anche come attività pratica, come insieme di norme, di pronunce che elabora su moltissimi argomenti, è appunto un centro di incontro, di sovrapposizione fra questo disegno liberal-liberista del mercato globalizzato e l'idea del diritto globale. Si chiama così, è stata un'espressione usata, un diritto globale che pretende di essere in qualche modo superiore e svincolato da quello a cui invece è sempre stato finora svincolato, cioè l'esercizio della sovranità dello Stato, insomma. Entrambi questi disegni hanno una forte impronta universalistica individualistica e hanno bisogno, per affermarsi ovviamente, di limitare fortemente il prestigio ideologico e dell'ambito d'azione dello Stato nazionale, della categoria di nazione, consapevoli del fatto, infatti come sapete appunto è continuo il ritornello, l'invito a superare lo Stato nazionale sul carattere arcaico ormai implausibile, arretrato, demodè, dello Stato nazionale. Consapevoli io credo del fatto che in realtà, mi pare che è stato già detto dal nostro moderatore nella sua presentazione, che lo Stato nazionale, la nazione di fatto hanno rappresentato e molto probabilmente io credo anche teoricamente rappresentano, cioè non possono essere facilmente trovati dei sostituti in questa loro funzione, la nazione e lo Stato nazionale rappresentano l'unico contenitore storico dove ha dimostrato di potersi sviluppare la democrazia rappresentativa. La democrazia rappresentativa, per quanti salti mortali si facciano, non riesce che a essere immaginabile, io credo, attraverso nel contenitore dello Stato nazionale, per una ragione anche culturale. La democrazia rappresentativa, ma direi qualunque, ha bisogno di un retroterra comunicativo, di possibilità comunicative, che sono date soltanto dalla possibilità di disporre fra tutti gli attori di un tramite linguistico comune, altrimenti non è possibile, diciamo così, nessun esercizio vero di democrazia. Questo avviene soltanto nello Stato nazionale, nella nazione. Solo nella nazione ha potuto svilupparsi pienamente il potere di determinazione e di decisione delle collettività umane e anche insieme, ovviamente, il potere di intervento degli strumenti delle decisioni, cioè lo Stato e i partiti. lo Stato e i partiti. Voler fare a meno, appunto, dello Stato nazionale, muoversi nell'ottica del ripudio dello Stato nazionale, come fanno appunto tanto il disegno liberista che è quello pan giuridicista, che ho chiamato pan giuridicista, in realtà, appunto, questo significa lasciare il singolo e la società di fatto indifesi e impotenti di fronte alle due grandi forze sommovitrici di quest'epoca, e cioè l'economia e la demografia, suscitando, appunto, le reazioni che sappiamo, le reazioni che rubrichiamo troppo facilmente sotto l'etichetta di populiste, ma che in realtà, io credo, non esprimono altro che la richiesta sempre più esasperata di protezione alla politica e quindi la richiesta sempre più forte di politica, di progetti politici all'altezza delle necessità, da parte di chi? Da parte dei settori, che tra l'altro sono settori, credo, numericamente in crescita, deboli delle società europee. Il primo disegno, il disegno liberista dichiarando in qualche modo la superfluità della politica, la politica non è necessaria. Il secondo disegno, riducendo la politica al diritto, dicendo la politica al diritto, in realtà colpiscono al cuore gli interessi dei settori più deboli della società, la cui protesta, appunto, prende le forme che ho detto. Protesta che è una protesta politica, richiesta, dicevo, di protezione politica, cioè io credo soprattutto richiesta di quello che mi sembra che si affronti, che la politica, i partiti affrontino quello che mi sembra il principale problema di fronte a noi, cioè la ritematizzazione del tema dei confini, che al centro dei movimenti profondi che agitano oggi le società europee, sia che si tratti dei confini in senso proprio, sia in senso lato, in senso traslato, metaforico, dei confini aperti di cultura, dei confini sociali. Su questo sfondo, vedo che sto rispettando perfettamente, mi sembra i tempi, più o meno, qualche osservazione sull'Italia. Anche da noi, questi due disegni dell'antipolitica e dell'antistratalità si dispiegano in pieno, però con alcune particolarità che vorrei un attimo così di passaggio osservare. Dall'altro una certa difficoltà della destra ad accettare fino in fondo la globalizzazione e l'ideologia europeista per la presenza appunto in particolare della Lega, nello schieramento di destra italiano, il che però introduce una contraddizione significativa e una certa difficoltà, per fortuna mi viene da dire, da parte della sinistra ad accettare fino in fondo il progetto del pan giuridicismo costituzionale. Per fortuna c'è ancora a sinistra, mi viene da dire, chi pensa che non sia l'indignazione, l'indignazione per il mancato rispetto dei diritti, per la violazione dei diritti eccetera, l'unica parola d'ordine, l'unico tema su cui si può organizzare un'agitazione è una protesta politica. Per fortuna c'è ancora a sinistra chi pensa che appunto prima che manifestare la propria indignazione per il male e per i malvagi è necessario capire cosa vogliono i malvagi, perché esistono i malvagi, a cosa significa politicamente e storicamente la malvagità dei malvagi. Io credo che il centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia, tutto quello che abbiamo di fronte in queste circostanze, ci dà delle indicazioni interessanti rispetto al discorso che ho così rapidamente accennato. La destra mi è sembrato in tutto questo nodo di celebrazioni, incapace radicalmente di connettersi al tema della nazione, anche sul piano celebrativo, ricostruttivo, sul piano della narrazione, diciamo così, orientata, obbligata forse, insomma, incapace di, orientata a dichiararne la superfluità, in preda ad una sostanziale afasia politico-intellettuale rispetto alla nazione. La sinistra invece ha riscoperto sicuramente in maniera forse per alcuni anche un po' sorprendente il tema della patria, del patriottismo e quindi della nazione, e quindi della nazione, dimostrando però, diciamo così, a mio avviso, di essere ancora in qualche modo in un impasse culturale, che è appunto ciò che testimonia la narrazione patriottica che è venuta da sinistra. È un impasse, mi sembra, determinata da due difficoltà che ha mostrato la sinistra in questa circostanza. Dall'altra è che ho esemplificato, esemplifico in due eventi pubblici molto sotto gli occhi di tutti. Uno è la famosa scena che avete visto tutti quanti, credo, in televisione di Roberto Saviano, che impugna la bandiera italiana e appunto parla contro i mali di Napoli, eccetera, eccetera. È tutta la camorra, insomma tutto quello che sappiamo. La difficoltà a concepire ancora la nazione come qualcosa che riguarda anche i propri avversari politici. Qualcosa che impedisce di dire che i veri italiani siamo soltanto noi. Devo dire che qualcosa del genere ispirava moltissimo anche in quel volume della Fondazione Italiana e Europea, dove c'erano le testimonianze di alcune decine di scrittori soprattutto. Molti di questi scrittori appunto, questi intellettuali, indulgevano moltissimo a questa cosa appunto di questa ripetizione del paradigma maledetto delle due Itali e delle due nazioni appunto dell'Italia buona e dell'Italia cattiva e naturalmente noi siamo sempre l'Italia buona. Chi parla, chi evoca questo paradigma naturalmente è per definizione sempre l'italiano buono. Il secondo termine dell'unpass è questa difficoltà soprattutto della narrazione storica della sinistra a uscire appunto dal gramscismo che però era una cosa molto seria nella sua origine appunto, cioè per mano di Gramsci era una cosa molto seria, è diventata una cosa sempre più degradata appunto, ridotta a mio giudizio, a caricatura in una cosa che invece ha avuto grandissimo successo come il film di Martone, noi ne credevamo. Un risorgimento ridotto a caricatura, ridotto ad una cosa tra Dostoievski, tra un'atmosfera da demoni Dostoievski, in cui Mazzini era una specie di Stavroghi che consegnava il pugnale all'attentatore, una cosa a metà appunto tra Dostoievski e Pino Aprile, con un risorgimento in cui i massimi protagonisti erano degli improbabili cilentani, adesso qui siamo a due passi, non vorrei offendere il Cilento, una terra nobilissima che però appunto anche nel risorgimento italiano forse ha contato di più il conte di Cavour, ma del cui non si parlava assolutamente. Gramsci si chiedeva perché avesse vinto Cavour, poneva al centro della sua riflessione la vittoria di Cavour, cioè quello che era realmente accaduto, il grande fatto storico politico che era accaduto. Invece appunto mi sembra che quando parlavo di gramscismo degradato e ridotto a caricatura, qui c'è soltanto invece il piagnisteo sul perché non abbiamo potuto avere appunto un Mazzini alla presidenza del Consiglio del Regno d'Italia, insomma che mi sembra una cosa messa così assolutamente ridicola. Parlo, è un tradimento appunto di quella alta ispirazione alla storia, alla politica che animava il pensiero italiano e che invece appunto mi sembra una delle principali perdite da parte di tanta cultura italiana. La perdita della capacità di un robusto pensiero storico politico a pro invece di un'inclinazione permanente verso l'eticismo, verso appunto e quindi verso l'indignazione trattino piagnisteo, che non spiegano nulla naturalmente, che non danno nulla. Si è portati sempre, parlando si è portati sempre di più, sempre inevitabilmente, almeno a me capita così, di accentuare il proprio punto di vista, che è molto pericoloso perché naturalmente inchioda inevitabilmente a un estremismo, che non è veramente, insomma, nelle mie volontà, però almeno ha un pregio, quello di rendere chiaro quello che uno vuole dire, di rendere magari troppo chiaro, fin troppo chiaro, però diciamo così forse per una discussione è qualcosa di utile. Ecco, mi avvio alla conclusione. Io credo che una riattualizzazione della politica, la nascita per così dire di un grande bisogno, di un grande disegno politico, abbia oggi bisogno di poggiare su una nuova narrazione della società, dello Stato italiano, dello Stato nazionale, del significato dello Stato nazionale. Abbiamo bisogno, credo moltissimo, di una narrazione storica che ricomponga la frattura fra lo Stato e l'idea d'Italia, senza di che, senza la ricomposizione di questa frattura, fra lo Stato e l'idea d'Italia, non è concepibile sostanziare le forme democratiche delle nostre istituzioni. Rubo questa espressione a Lucio Caraccio nell'ultimo editoriale di Limes. Io credo, questo è un elemento, diciamo così, di discussione, di discussione un po' polemica con Roberto, che lo Stato sia un elemento essenziale dell'orizzonte politico, almeno da alcuni secoli a questa parte. Non può esistere un pensiero della politica senza un forte pensiero dello Stato. Il fatto che nella tradizione italiana non ci sia questo pensiero dello Stato, mi dispiace, ma io continuo a considerarlo un gravissimo, come dire, handicap è un po' ridicolo, insomma un vuoto, un vuoto che ci sta alle spalle. E quando dico Stato, naturalmente dico Stato politico, non lo Stato costituzionale basta, non soltanto uno Stato che si esaurisca in una Costituzione. Una Costituzione ce l'abbiamo e anche, tutto sommato, per una parte la prima una buona Costituzione, per la seconda una pessima Costituzione, ma, insomma, appunto si dovrebbe riformarla. Ricomporre questa frattura, appunto, fra lo Stato e l'idea d'Italia, all'insegna di quel binomio poi di storia e politica che è nelle corde, appunto, nelle viscere del pensiero italiano. Noi abbiamo bisogno, altro che noi credevamo, mi verrebbe da dire, noi abbiamo bisogno come collettività politica nazionale, se vogliamo continuare ad esserlo, perché possiamo anche lasciare andare le cose come stanno andando, insomma. Ma se vogliamo continuare ad essere una collettività politica a base nazionale abbiamo bisogno, io credo, dello Stato e abbiamo bisogno di credere, di credere, appunto, nel senso, nella verità storica di questo Stato, non nel fatto che esso è nato da una sorta di giochi di bussolotti, di alcuni, appunto, giocatori improvvisati. Abbiamo bisogno di riscoprire culturalmente la nazione e lo Stato nazionale, di conferire una nuova razionalità nutrita di cultura, di sentimenti storici di appartenenza, ben diversi naturalmente da quelli truci legati all'origine, all'etnos, che sono stati propri del fascismo. Naturalmente il mio, appunto, termino è una perorazione sul dover essere, se mi si chiedesse poi quali sono le forze che hanno la capacità di fare questo, naturalmente il discorso si apre in una direzione del tutto nuova, che però non è, appunto, proprio di questa sede. Grazie.